Siamo arrivati alla terza battaglia del primo capitolo della modalità storia di Injustice 2 ragazzi, Batman deve affrontare Superman, capite? Questa è una battaglia tra uomo pipistrello e criptoniano, capite? Uomo d'acciaio contro Cavaliere Oscuro, ed è la stessa osa come si vedeva al cinema nel 2016. Questo primo capitolo di Injustice 2 non mi piace perché Batman sta picchiando tutti i suoi amici eroi. Finora Batman ha sconfitto Cyborg e Wonder Woman, ora ha le presi on Superman. Qualche volta si batti beccano Batman e Superman. Bene, vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Questa terza battaglia, il primo capitolo è conclusa.